Le restrizioni sul superbonus 110% non colpiranno le zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto. Sono salvi i crateri 2009 del Centro Italia 16-17, per cui la ricostruzione potrà andare avanti senza intoppi. Dopo la paura, la buona notizia. Il governo in corso d'opera ha emanato un'integrazione al decreto del Consiglio dei Ministri sulla restrizione del superbonus 110. Non ci sarà quindi nessun accollo dei costi per i cittadini, perché sono stati stanziati 70 milioni per il cratere dell'Aquila, 330 milioni per il terremoto del Centro Italia 16-17. Le reazioni sono state molteplici, a partire da quella del senatore Guido Liris, che ha ringraziato il governo. Ieri sera è intervenuto sul tema anche il commissario Guido Castelli, ribadendo appunto l'attenzione del governo Meloni rispetto alle aree terremotate. Nonostante le indiscrezioni iniziali, le ragioni del cratere sono state rispettate. Il decreto consentirà ai proprietari degli immobili lesionati o distrutti dal sisma di continuare a sommare il contributo sisma alle agevolazioni offerte dal 110%. È stata una bellissima notizia, una volta tante siamo andati a letto contenti, non ci siamo svegliati contenti. Ci ha rincuorato, non solo come ordine, ma proprio come società, come cittadinanza, non solo dell'Aquila e di tutti i crateri. Perché senza il superbonus non riusciremo mai a portare a termine la ricostruzione. E probabilmente avremo anche vanificato tutti i soldi spesi fino ad oggi, non riuscendo ad arrivare a un recupero completo delle aree. E parlo non solo delle aree del sisma 2009, ma anche del 2016 e altri eventi che hanno colpito l'Italia in maniera catastrofica. È stato un provvedimento allargato che aspettavamo e che era stato sollecitato fortemente. Questa volta, devo dire, in maniera tempestiva si è corretto e penso che la Pasqua verrà affrontata in maniera più serena, veramente, un po' da tutti quanti i cittadini.